Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove andiamo ad affrontare un super campione, un super giocatore conosciuto in tutto il mondo. Sto parlando dell'amico Aaron Cybertron Zeng, un grandissimo anche content creator, il primo content creator a livello internazionale americano. Aaron come detto è un amico, prima che un gran giocatore, è colui che ha fatto tanti piazzamenti negli Stati Uniti, sia in junior, sia in senior, sia in master, il più famoso di tutti, la top 4, i mondiali 2013, persa se vogliamo per quel famoso miss di Will-O-Wisp del suo miglior Pokémon di sempre, ossia Rotom Wash, chissà se lo affronteremo anche oggi. Vi porterò un team che già conoscete, attendete ancora qualche istante per scoprire quale sarà, ci giocheremo questa partita in Best of 3. Quindi così come è fatto contro Wolfie Glick, qualora dovessimo andare a perdere la prima partita, susseguirà almeno un altro match. Tenetevi veramente forte perché sicuramente sarà una bellissima Best of 3, schiacciate, sfondate il tasto mi piace, lasciate un commento su quelle che saranno le vostre poi impressioni sul match, sulle nostre giocate, ed iscrivetevi al canale oggi più che mai. Partiamo, io sono concentratissimo, mi perdonerete, se proprio perché sarò concentrato sarò magari un pochino più taciturno in determinate fasi della partita, del video, però, lo sapete, in queste occasioni viene fuori il player che è in me e per me è più un'occasione, specialmente adesso che c'è un po' questo lockdown della stagione, per giocare contro un super top più che per girare un video. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Ci siamo. Entriamo in team preview, guardiamo cosa si va a giocare il nostro caro Cybertron. Allora, X-Ray Lapras, Raichu Indidi, Rhyperior, Dusclops. Noi ci giochiamo il granchione. Noi ci giochiamo il granchione, ragazzi. E Trick Room è una bella trait, ma qualcosa dobbiamo pure inventarci, giusto? Se lui va di Indidi, Dusclops, la setta. Potrei andare di doppia frana. Sembra una puttanata, però potrebbe essere qualcosa che potrebbe anche funzionare. Potrei andare di doppia send, banale, banale. Doppio send. Io però a questo primo match vado di Incy. Incy Cipher. Incy Cipher, Rotom Togekis. L'idea è quella di Dynamaxare Rotom e cercare di starlargli un po' la Trick Room con gli entreesci di Incy, predittando magari l'ingresso in campo di Perior. Lui va di Indidi Esca. Il dato meglio di noi. Ed è un Mold Breaker. Non tanto si prende sto M1. E un più 1 in difesa especiale. Allora, io per come ho fatto il mio Incy, reggiamo Max Quake. Meno 1 di Lifehord Esca. Non dell'Adaman, ma del Giorgio. Ok. Potenzialmente parlando si può anche buttare Togge. Ok. Non mi rischia di inserire. E io... Io, ragazzi, di Dynamax. Ma anche proprio alla gamba. Però... Faccio una cosa. Parting Shot. Non è malvagia la nostra lead sapendo che noi possiamo reggere. Lui Dynamax ha... E Dynamaxerà un coso a meno 1. Potenzialmente. Un vero Quake. Magari Predicta va di Steel Spike. Comunque, noi sappiamo di reggere. Ci riprendiamo di bacca e gli diamo un meno 2. Cosa può succedere? È il pingan più crit. E a me fa comodo togliere quelli indiri, eh. Chiaro. Se ha fatto su Inzi ce lo toglie. Però... Avrebbe rischiato, secondo me, un po' tanto. Se dovrà su Tizer, forse. Mamma mia, se buttavo Toys. Reggiamo. Perché abbiamo fatto una spread da Maron. Io Inzi lo gioco Super Bulkie fisicamente in questa season che chiaramente deve reggere Escatlip. In caso di emergenza anche Raiperio che ha a meno 2. Quindi qui le spread si dimostrano. Importanti. Mossa molto rischiosa del nostro avversario che però non è uno sproveduto. Ha predictato bene. I super campioni hanno questa sorta di istinto primordiale che gli fa fare sempre la scelta giusta. L'avete visto? Stavo per mettere Toris. Non l'ho fatto. Avrebbe buttato via Monturino, ma... Non l'ho fatto. Ma... Comunque abbiamo un buon payout. Perché? Perché abbiamo... Dal nostro... Punto di vista... Un interessante... IndiD che se ne va... E un meno 2 su Escatlip. Buono. Lui mi sa di Sesh. Ovviamente. Period. Lui mi puzza di Sesh. Farà Steel, secondo me. Farà Steel, secondo me. Noi si va di Knuckle. Così andiamo a controbilanciare quello che per lui sarà un boost. Qui il danno sarà imbarazzantemente basso. Lui ha meno 2. E noi abbiamo la Babiri. Ci stava anche Rotom, ma... Da Fra, non crediate, prenda poco. E questo è un buon danno per noi. Va bene. Perché va bene. È un Repairio Life Orb, questo. È il momento di tirare fuori il nostro... Con tornare fuori il nostro... Beniamino. Grazie a tutti Raga, io la sparo Cioè, mi sto a fare il problema Basta, quasi, il problema, io la sparo Chi entra, entra Prendo una legonata Lui ha meno due, eh Si aumenta la difesa speciale In più c'è la sand Quindi Rhyperio, secondo me, è, come dire, quasi convinta Di poterla reggere Noi però siamo l'i4 Noi però siamo l'i4 Ci droppiamo, ci droppiamo, it's true Però Cazzottiamo extra, buono Partita ancora aperta Noi abbiamo un Titan a più due E un Rotom a meno due E non essere il a meno due Di attacco Quindi è la fiera del meno Del meno qualcosa Fuori Fuori E' la fiera del meno Ho proprio l'ho Non c'erano E' la fiera del meno 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 Vado di super power. Non voglio rischiare il misnitana. Poi succedono cose strane. Pertiamo esca a meno 3. È stato vitale portarlo a meno 3, ragazzi. Lui fa quel che deve. Cioè tentare il paraflinch. Che non ha il paraflinch niente. A para non c'è, il flinch. Non arriva. Ok. Non vi nego che siamo messi bene. Se è a terremoto. Se non crit a tighter. Non è a posto. C'è la slide. Leggiamo tutti due perché ripeto che è a meno 3. Arriva super power. Primo match. Partita finita. Non si è vinto un cazzo. Siamo 1-0. Rai Barrier. E Life Orb. Esca. E probabilmente Sesh. Indy. E seme. E che tornerebbe a un Lapras che mi sa The Weakness. Che se ha la Life Orb su Rai. Altrimenti perché dagli Life Orb, no? Nel frattempo ci prendiamo la card di Cybertron e facciamo il game 2. Andrà di Trick Room secondo me a lui. Non dimentichiamo che noi abbiamo portato Taita, Rinsi, Toge, Kiss e Rotom. Lui secondo me capirà che la tua chiave può essere l'Hyperior e un Dusclops. Se fa in D-Dusclops e noi rifacciamo in C-Taitar. Turno 1 facciamo Frana senza Dynamaxing più Snarl. Facciamo un po' di danni. Lui mette però la Distort. Turno dopo. Io vado di Parting Shot più. Tirassi fuori Kingler? Ma che mi serve? Allora io me la gioco con le stesse lead ma lui chiaramente non farà lo stesso perché secondo me l'ha spiazzato e non poco il fatto di aver retto con Incineroar il Lapping Hand Max Quake. Non se l'ha aspettato. Ok era meno uno però con l'Helping Hand ha riequilibrato. Solo che io lo gioco in Peach. Ormai ve l'ho spollerato. Vorrà farmi Nuzzle? Domanda? Perché Raichu? Perché Raichu in D-Di? Perché Raichu in D-Di? Io la Parra non la voglio. Dunque lui ha cambiato radicalmente. Esca ce l'ha sicuro. Sicuro. Questa partita se tanto mi dà tanto potrebbe essere buono da Emaxare Rotom ma dobbiamo capire prima se ha i re-impulse su Raichu. Forza lotta? È partito il timer? O meglio è partito il timer. Deve essere partito il timer perché il Ping Hand Nuzzle non ha molto senso. Capita sempre anche a me. Fortuna che non viene rovinato lo show perché secondo me voleva fare Nuzzle lo stesso magari non è il Ping Hand con in D-Di ecco. Penso e poi sfumata bene. noi dovremmo aver fatto fuori Indy. e lui entra con Esca come preventivato, premeditato, preventi tutto. ora non reggiamo più il Max Quake chiaramente perché abbiamo preso un bel dannozzo. vediamo con chi entra. vediamo con chi entra. Chi avrà rinunciato l'Habras probabilmente. Ho visto che ho Rotom, ho visto che ho Titars nel Raichuario l'ha portato. Ma invece no. Gli fa spazio proprio l'Habras. io vado di Overgrow su Esca e Togekis perché se vado di Max Lightning Overgrow sull'Habras gli attivo la Weakness e poi lui di Gelo cosa lì melodia Gelo quella lì ci tira giù Togekis anche perché qui potrebbe starci un doppio attacco tutto su Indy tant'è Mossa Gelo e Iris Power per coprire sia lo switch di Togekis sia l'Indy anche perché era un po' il refren del match 1 stessa slot peraltro quindi anche psicologicamente lo richiama ecco perché ci poteva stare anche un Max Guard da parte mia se il Gelo Coso me l'ha fatto su Roma ma in fine conti se ci pensate se io porto al Sesh quell'Esca poi lui rimane con Raichu e l'Habras e io ho Tyther ora è vero che Dynamax emette la Creta Luce Aurora Veil Creta Luce un'altra cosa però diciamo ci può fare semplicemente con un Indy che magari fa Snarl Swartons era la mia paura minuto bisogna vedere chiaramente su chi l'ha fatta perché se l'ha fatta su Rotom mi porta in range di frana ora che ha più 2 quindi la Resonance arriva la fatta su Rotom dai oh è il Cybertron mica in coglione mi porta in range un tubo mi uccide giusto il nostro Rotom è un Rotom un po' un po' life orb un po' sbulchi insi 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 Io non vado di fake out, qui potrebbe essere una predict over predict, è un 50 e 50. Brivido ragazzi. Ora però, parting shot bisognerebbe che fosse più rapido di Lapras, e lo è, e lo è. Ora lui ci fa Geyser e ci attiva la Weakness, oppure ha fatto Reassurance Futovikis. Che a meno uno noi reggiamo meglio, però siamo, mi sa, in virtù della send anche in range di... Partita è aperta, ma me la devo giocare bene. Me la devo giocare bene. Io qui posso anche sfidere una protect che lui magari non si aspetta. Rischio tantissimo ragazzi, perché mi può fare anche fake out. Rischio tantissimo, rischio proprio l'osso del collo, qui. Nooo, se l'ha triggerata addosso. Bravo Aaron. Bella roba, questo mi fa impazzire. Però hai perso Esca. Vabbè, però sei andato a più uno, cacchio. A meno uno gliel'avevo regalato. Andiamo a vedere dove l'ha fatto, però, perché se ha fatto... Geyser sul Titan, dai. Merda. Questo ragazzi, a più uno, fa malissimo. Si va a game tre. Qui ha fatto una giocata da super campione. Non l'avevo proprio contemplato il self-voltage, devo essere onesto. Bravo. Avessi fatto follow me me lo sarei preso addosso, ma a meno uno. Avrei retto Esca sarebbe morto, mi sarebbe partita la mia di Witness e poi dopo avrei probabilmente vinto. Ora, non è dura, di più. Di più. Io mi fa fake out su... Mi fa fake out. In mossa water. O meglio, ancora freeze dry. Intanto mi tira giù il ramo secco, che è Lapras. Sì, che è un Togekis. Ultissimo. E poi dopo mi gestisce un... Un Inzi a meno uno. Per via dell'arena. Intendo, con la mossa fuoco è come se fosse a meno uno. Va bene. Si va a game tre. Io ve l'ho detto. Non mi vinto un cazzo a conciugare nulla. Purtroppo, raga, non è una partita per Kingler. Raichu, Nuzzle, Redirecting, possibilità di Trick Room, Lapras. Soprattutto, Lapras. Game tre. Allora, game tre, game tre, game tre. Kingler. Abbiamo Max Nahholm. Eh, ragazzi, sono questi... Sono questi quattro per portare. Perché poi Luminaz la... Se un po' mi fa Trick Room, sono rovinato. Sì, lui punta su Ray Perior. O Togekis. O Eska. Abbiamo troppe più Duties. Comunque, game tre di questa bellissima assinatura, Best of Three. Mi raccomando, ragazzi, se non sfondate il tasto mi piace oggi, anche se perdo, chi se ne frega lo risultato. E va di Trick Room. Allora. Va di Trick Room. Il nostro amico va di Trick. Se io ho partingshot e me ne vado cosa risolvo Anche niente Magari Prendiamo un flinch Non lo faccio per finish Faccio per spammare danni Lui probably mi farà follow me Ma non è detto Potrebbe anche overpredictare come ho fatto prima Che se lui fa follow me Trick rum io Gli taglio via in Didi Inter Hyperior Lui è contento ma 1, 2, 3, 4 Mi segno di turno di trick Un instante ora arriva Mi segno di turno di trick Ammetto di aver un po' paura del Wisp. Pinesplit, Kamotoge, il pazzo, guarda bellina questa. Ragazzi, lui è un messo a giocare, non credi niente. Il pazzo, guarda bellina, non credi niente. Non fare fallo nifferano, pura del Wisp. Shade! Il pazzo d'urno, io me lo segno. Io ora mi devo potenziare. Installare la stiamo installando bene. Il piano effettivamente sembra funzionare, quello di Incy Titan. Io vi baratto un turno di Dynamaxing per avere un più uno che mi può essere utile per fare dopo eventualmente una kill su Lapras di Rockfall. Ok. 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 Voi dovreste rivedere la stessa partita. Ok ragazzi, abbiamo dovuto fare un lavoro di aggiunta, nel senso di copia-incolla, perché cos'è successo? È andata giù la connessione e abbiamo fatto le stesse mosse, però voi sapete c'è di mezzo frana, miss, eccetera, eccetera. A parte Duskrobs, quindi lo vedete all'altra parte del campo rispetto a dove era e ha un pochino più DPS perché ha evitato una frana, ma insomma l'avremmo detto con il buon Iron di continuare allo stesso. Adesso riconcentriamoci e finiamola. c'è l'ultimo turno, c'è l'ultimo turno, c'è l'ultimo turno, di tr tr tr, e io vado di follow me, darkness, potrebbe fare Alice Witch, però Aaron non è un Alice Witch player, inoltre, ora l'Hyperior sappiamo avere Life Orb, però potrebbe avere Rock Tomb, per triggerarsi per triggerarsi Lapras, secondo me. Shade, reggiamo perché abbiamo 57. Slide che toghe evita, Taitar pure. avremmo preso poco, però qualcosa avremmo preso, qui a me cosa interessa, togliere la Trick Room a lui, perché la Trick Room è finita adesso, gliel'abbiamo installata bene. Ora, non c'ha più Indy, non c'ha più Duskrobs, c'ha un Rhyperior pieno. A me qui si è arrivato a chi si era più contento perché entrava di Rotom, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. che si fa? Chi direi? Follow me. e Dark, ne è stata siamo più uno, poi se esce insomma tirare, non lo tiriamo giù, non va di innacco, preferisco calare di uno stage la difesa speciale di quel Rhyperior, qualora lui mi dinamaxesse Rhyperior, facesse Frana. Dynamax invece esca, vabbè, comunque, non penso faccia Marks Quake, farà Steel, se non entrerà alla difesa. Potevo fare anche il Ping Hand, ma... Allora, la Babiri parte, ma secondo me viene giù. Siamo concentrati lo stesso. Siamo molto concentrati lo stesso. Eh, più uno fa male, ragazzi. Ma più uno sto coso fa male. Ok. Highest Power, porca puttana che danno. Porca puttana che danno. Allora, concentrazione. Se io butto Inzi adesso, posso fare Fake Out più... Secondo me una mossa la reggiamo. Con Titan dico. Super Power a più tre. Dovrebbe essere in grado. Perché Live of Power Life Orb di Rhyperior, secondo me, è paragonabile a... Terrain... Perché se butto Rotom... No, devo buttare lui. Lo butta Inci. E si fa Fake Out. Controlliamo che non ci siano campi perché sono stanco. Poi ricontrolliamo un attimo la situazione. Meno uno, meno uno. Meno due in difesa speciale. Ripeto, non cerca un po' Psy, no. Però mi avete perdonato un altro cotto. Voi lo vedrete condensato in 40-45 minuti, ma in virtù della disconnessione abbiamo dovuto rifare un po' di volte, un'ora e mezzo che ci chiamo. Io... Quell'esca... Il Fake Out lo faccio perché il Game 2 non l'ho fatto. Lui se me va ancora di SteelSuitrider. Non reggiamo. Non è una bella notizia questa. Indubbiamente no. È un roll perché comunque Ior's Power è da 95, Life Orb è poi l'attacco di Requereo è superiore a quello di Escapi. Ma cosa è certa? Più due non muore. Poi va a più zero poi. Io ho splitto. Gaza Fincine. Gaza Fincine. Importante è che essere arrivato a questo turno con un Cybertron che vinca o che perda significa che ce la siamo giocare alla pari. E a me, questo è quello che interessa. Perior, protegge. Ma qui ci poteva stare una come l'altra. Qui andrà di Quake. Abbiamo visto reggerla noi. Crit. Crit. Ho fatto e rifatto una partita mille volte. Per perdere di crit. Va bene. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Niente da fare. Non mi avessi critato era meno uno e avremmo vinto. Amen. Amen. Perché poi il turno dopo non ci avrebbe tirato più Rotom. Avrebbe dovuto far Frana e noi di Lipstorm. Cioè, per carità, avremmo vinto. Avrebbe dovuto prendere una serie di flinch importante. Due flinch di fila. Di cui uno su tutti e due. Ecco sì. E questi sono i crit che prendo io. Una bella beffa. Indubbiamente una bella beffa. Indubbiamente una bella beffa. Vabbè. Come detto. Sono comunque orgoglioso di essere mai giocato alla pari. Di avere virtualmente... Vabbè. Non lo dico perché non ho vinto. Non lo dico perché non ho vinto. L'Axwaf fa parte del gioco. Quindi virtualmente sta a zero. Tanto amaro in bocca. Tanto amaro in bocca. Mi sarebbe piaciuto dopo aver battuto Wolfi. Dibattere anche il buon Cybertron. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Crit chirurgico. Meno uno. Su roto. Va bene ragazzi. È stato comunque una bellissima Best of Three. Su questo penso non ci piova. Quindi il sorriso mi rimane. È un sorriso un po' amaro. Ma vabbè. 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 Magari ci faremo una rivincita. Col buon Aaron. Un domani. Ragazzi. Io vi invito comunque a lasciare mi piace. A iscrivervi al canale. E a controllare la descrizione. Per i nostri partner. Da Instant Gaming. Dove trovate una miriade di giochi scontati. A Pampling. Dove c'è. E prosegue. Questo 3x10. Ciao raga. Un abbraccione. 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 Un abbraccione.